A Gian Moro, nel piccolo centro tirrenico a due passi da Milazzo, un'anziana donna di 87 anni è stata trovata morta sul letto di casa, imbavagliata e legata. Si chiamava Caterina Basile e viveva da sola in via nazionale, la strada principale della popolosa frazione appartenente al comune di Pace del Mela. A trovare il corpo è stato il nipote che assieme ad un amico, preoccupato perché la zia non rispondeva al telefono, ha così raggiunto l'abitazione e con una scala è salito sino al balcone del primo piano, riuscendo poi ad accedervi da una finestra. Davanti l'uomo si è trovato una scena raccapricciante. L'anziana giaceva priva di vita sul letto della propria camera, con mani e piedi legati in modo separato. Le altre stanze è totalmente a suo quadro. Ripresosi dallo shock, l'uomo ha fatto scattare l'allarme sul posto nel giro di pochi minuti. Sono giunti i carabinieri della compagnia di Milazzo, i militari della locale stazione, i colleghi del RIS di Messina, con un laboratorio mobile per effettuare i primi rilievi. Sul posto anche il procuratore di Barcellona, Francesco Massara, il comandante provinciale dei carabinieri di Messina, colonnello Stefano Spagnol, e il comandante del reparto investigativo di Messina. Gli specialisti del RIS sono rimasti all'interno della casa per l'intera giornata, e con loro anche il medico legale. Bocche cucite da parte degli inquirenti, sia sulle cause del decesso, sia sulla stessa ricostruzione dell'accaduto. Quasi certamente una rapina finita in tragedia. I rilievi compiuti dai carabinieri del RIS di Messina potranno dare un impulso decisivo alle indagini. Una frazione, quella di Giammoro, di Pace del Mela, sotto shock, per un colpo dalla brutalità inaudita. L'omicidio di Giammoro non ha precedenti, rapine anche con percorse, ma mai si era arrivati ad un tale epilogo. Gli ultimi fatti di sangue sfiociati nel delitto si erano registrati solo a Barcellona Pozzo di Gotto. Caterina Basile era conosciuta da tutti nel piccolo centro, per questo è tanta la rabbia e l'incredulità per quanto accaduto. Sì, sì, l'ho conosciuta, come vicina di casa, come, no? Avevamo rapporti di buon vicinato, assolutamente, anche nel giardino ci vedavamo spesso. E niente, che devo dire, siamo un po' stravolte tutti. Quando ha visto ultimamente la signora? Stava qualche settimana, forse di più, perché era influenzata, ultimamente era stata influenzata. Brava, quando usciva, andava in macelleria, si comprava il pane, le piccole cose, e stava in casa. L'hanno trovata con la pastina, che doveva mangiare la pastina, ancora doveva cenare, in pratica. Doveva ancora cenare. Evidentemente non si era resa conto di niente, altrimenti, perché gli dicevo sempre, signorina, si mette il telefono vicino, chiami, a qualsiasi ora, a qualsiasi momento ci chiami. La conosceva, signora? La conoscevo. Come la conosceva? Era, era la mia padrona di casa. E quindi lei ogni mese pagava l'affitto alla signora? Io l'affitto, lo pago, tramite la banca. Da quanto tempo non vedeva allora la sua padrona di casa, signora? Io? Io la mattina, ci spiego, esco presto. Non è che la mattina le esce presto. Io quando le esce, io sono già a messina. Che gli dava da mangiare? Qualche parente? Cucinava da sola? Era autonoma? Autonoma, autonoma, autonoma. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. L'ascesa al colle del primo palermitano della storia della Repubblica Italiana è soprattutto la vittoria del presidente del Consiglio più giovane della storia d'Italia, Matteo Renzi. A differenza di due anni fa, quando il PD guidato da Pierluigi Bersani compì un parricidio e un suicidio non eleggendo Romano Prodi, silurato dai celeberrimi 101 franchitiratori, questa volta il premier ha compiuto una mossa che in un colpo solo ha sbaragliato tutti e ricompattato il suo partito, riuscendo a trovare anche l'appoggio di alleati e non. Un solo nome ha fatto Renzi e quello è stato eletto, Sergio Mattarella. Si è trattato certamente di una scelta sulla quale in pochi hanno avuto da ridire. La storia dell'ex ministro e giudice costituzionale è quella di una persona con la schiena dritta e dall'alto profilo istituzionale. Ma il PD è abituato ai peggiori capitomboli. Ma questa volta, niente scherzi, alla quarta votazione, la prima che necessita solo della maggioranza assoluta, il presidente della Repubblica è stato eletto. Non è stata però un'elezione lampo, perché in passato il Parlamento in seduta comune è riuscito a eleggere a primo scrutinio ben tre presidenti. Enrico De Nicola, il primo della Repubblica, Francesco Cossiga e Carlo Azzeglio Ciampi. La vittoria di Renzi è ancora più evidente se confrontata con la sconfitta delle altre forze politiche. I centristi di Alfano e Casini hanno detto sì solo dopo qualche mugugno, mettendo a rischio la loro stessa permanenza al governo e nella maggioranza. Berlusconi ha posto un veto sulla persona, facendo saltare probabilmente il patto del Nazareno. I Cinque Stelle hanno prima lanciato alle Quirinarie nome lontani dalle loro idee, Prodi e Bersani, e poi hanno puntato su Ferdinando Imposimato senza neanche sedersi al tavolo delle trattative per provare ad eleggere in maniera condivisa il capo dello Stato. La sinistra di Vendolo e degli altri partiti minori, invece, ha immediatamente accolto con favore il nome di Mattarella, prefigurando un riavvicinamento al PD nonostante non si trovi a sostenere il governo in questo momento, e ha ottenuto anche l'affondamento del tanto odiato patto del Nazareno. Pranzo alla consulta nel suo ufficio al terzo piano, un occhio alla TV, al canale della Camera e qualche agenzia per controllare i movimenti delle forze politiche. Si è svolto così l'ultimo giorno da cittadino qualunque di Sergio Mattarella. «Sono sereno e laborioso», ha confermato a quanti lo hanno chiamato in una giornata nella quale non ha perso di vista la famiglia e gli effetti, nonostante il riservo e la tradizionale discrezione che da sempre lo contraddistingue. In questi giorni tutta l'attenzione si è concentrata su quello che adesso è il tredicesimo presidente della Repubblica, contando il bis di Napolitano. Nelle ultime ore, Mattarella è stato blindato nel suo mini appartamento nella foresteria della consulta, dove vive da circa due anni, da quando è rimasto vedogo. Una casa collocata tra i palazzi attorno al Quirinale, con il ristorante a gestione familiare, l'hotel da lusso, antico, la scuola privata. Tutto come ogni giorno. Discreto, come del resto è l'uomo Sergio Mattarella, che in tutta la sua vita da deputato e ministro si è concesso alle telecamere per una sola ed esclusiva intervista, rilasciata nel 2010 nella sua casa a Palermo. Probabilmente da quando il premier Matteo Renzi lo ha ufficialmente investito della candidatura, il già schivo giudice siciliano ha scelto di tenere un profilo ancora più basso. Lavoro, studio, niente telecamere. Al bar, sulla via della consulta, non lo vedono da sabato scorso. È quasi un rituale per lui. Non prende mai il caffè, ma uno spuntino da portar via. All'ora di pranzo, spiegano i titolari, la pizza col prosciutto, il formaggio e qualche cioccolatino. È sempre da solo, quando potrebbe avere una scorta. Una discrezione che piace quella di Mattarella. Una bella persona tranquilla. Aggiungono al bar. Siciliano, Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio del 1941. È stato più volte ministro, deputato per 25 anni e attualmente giudice costituzionale. Proviene da una famiglia che si è sempre occupata di politica. Il padre Bernardo, democristiano, fu più volte ministro tra gli anni 50 e 60. Il fratello, invece, era Pier Santi, che nel 1980 fu assassinato da Cosa Nostra, mentre era presidente della regione siciliana. Deputato dal 1983 al 2008, Mattarella è conosciuto soprattutto per la legge che il politologo Giovanni Sartori ha ribattezzato Mattarellum. È lui, infatti, il relatore che, nella dodicesima legislatura, diede vita alla riforma elettorale che introduceva una preponderante componente maggioritaria. Nel 1989, con la formazione del governo Androtti VI, diventa ministro della pubblica istruzione. Si dimette dall'incarico il 27 luglio 1990 per protestare contro l'approvazione della legge Mammy, che avrebbe legittimato la posizione dominante del gruppo televisivo di Berlusconi. Mai sfiorato dalle inchieste su Tangentopoli, Mattarella è uno dei protagonisti del rinnovamento della democrazia cristiana, che avrebbe condotto nel 1994 alla fondazione del Partito Popolare Italiano. Nel 1995, al culmine dello scontro interno al Partito Popolare, definisce un incubo irrazionale l'ipotesi che Forza Italia potesse essere accolta nel Partito Popolare Europeo. Nel 1996, con l'affermazione elettorale dell'Ulivo, viene eletto capogruppo dei Popolari alla Camera. Durante, il governo D'Alema I assume la carica di vicepresidente del Consiglio, mentre nei successivi governi D'Alema e Amato è ministro della difesa. Già nel 2013, il suo nome era stato proposto dall'ex segretario del PD, Pierluigi Bersani, come candidato alla presidenza della Repubblica. Oggi ci troviamo in via Giovanni Palatucci, una parallela di via regione siciliana, 30 metri in linea d'aria. Questa via collega via Paesello e via Paternò e cade nel territorio di pertinenza dell'ottava circoscrizione di Palermo. Qui sembra di trovarci in una discarica a cielo aperto, perché la gente l'ha trasformata in un luogo di abbandono di rifiuti ingombranti. Vi si trova praticamente di tutto, mobili, sedie, armadi, specchiere, divani, poltrone, pneumatici, immondizia, rifiuti edili, rifiuti di vario genere, abbandonati persino da chi abita nelle vicinanze. Tale luogo viene anche sfruttato come luogo di riciclo, fonte di guadagno e sostentamento per indigenti e per chi lavora col baratto. Qualcuno cerca cartoni, altri qualcosa per il proprio arredamento. E dire che a breve distanza, circa 300 metri in linea d'aria, si trova Piazzale Giotto, dove quasi ogni giorno è possibile sbarazzarsi gratuitamente di rifiuti ingombranti, affidandoli alla RAP lì presente per tale uopo. Periodicamente, l'ultima volta circa due mesi fa, tale via era stata ripulita dall'azienda municipalizzata Amia, oggi RAP. E proprio nelle ultime ore, dietro ordinanza comunale, è intervenuta la RAP con Ruspa, Gru, Camione e numeroso personale. Ma dato che ripulire la strada evidentemente non bastava per evitare nuovi abbandoni di immondizia, l'amministrazione ha deciso di bloccarne entrambi gli accessi. Ed in collaborazione con il comandante dei vigili Messina è stato stabilito anche di aumentare i controlli. Chiudere una strada carrabile è senz'altro una sconfitta. Ma si spera che la situazione sia solo temporanea, per scoraggiare l'abbandono di rifiuti, in attesa di un piano strategico più efficace per ridare la strada ai palermitani. Di certo, sorti ben differenti avrebbe meritato una via dedicata ad un uomo che è stato eletto giusto tra le nazioni per aver salvato durante la seconda guerra mondiale numerosi israeliti, morendo in un campo di concentramento. La polizia di stato attraverso un comunicato stampa informa gli utenti del web di una nuova truffa che sta interessando la rete. La polizia postale delle comunicazioni ha registrato negli ultimi giorni un significativo aumento dei casi di attacchi del tipo ransomware con CryptoLocker o simili, ovvero malware con cui i criminali infettano il computer, criptano i dati della vittima e richiedono un pagamento per la decrittazione con gravi danni ai computer e ai server di privati, aziende e professionisti. Nei casi più frequenti malintenzionati inviano delle email anche ad indirizzi istituzionali in cui si avvisano gli ignari malcapitati che devono essere rimborsati per alcuni acquisti da loro fatti e poi resi al venditore o si invia a documentazione contabile per cui si chiede di scaricare il modulo allegato. Quando l'utente scarica il modulo, un virus si installa nel computer, criptando tutti i file in esso contenuti. Viene poi chiesto di effettuare un pagamento in bitcoin, la moneta virtuale non tracciabile, per sbloccare il computer. Ma è bene evidenziare che il pagamento non dà la certezza che i dati siano resi fruibili e il consiglio è di non cedere al ricatto. La polizia postale, pertanto, invita gli utenti a non aprire assolutamente gli allegati delle email sospette e a cestinare immediatamente il loro contenuto prima che possa essere infettato l'intero sistema. In questi giorni vengono inviate da ignoti anche false email a nome di Equitalia. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, in particolare quando vengono richiesti dati, come conti correnti e password. La salma del giudice Falcone sarà traslata dal cimitero Sant'Orsola alla chiesa di San Domenico di Palermo. Lo ha annunciato Maria Falcone in occasione di un incontro avuto con gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Giovanni XXIII a Roma. Mio fratello, lo ricorda la sorella, non era solo il giudice antimafia, lui era il magistrato che credeva nella giustizia e nelle istituzioni. Vorrei che a restare nella memoria fossero soprattutto i suoi valori, aggiunge Maria Falcone. Se le stragi di mafia fossero avvenute oggi, quale sarebbe la reazione? Sono convinta che sarebbe più forte. La sensibilità civile negli anni è aumentata. Il prossimo 23 maggio ha affermato Sarà una giornata molto speciale. Questa è una data importante per noi familiari, ma anche per tutta Palermo. Il giudice Giovanni Falcone prenderà posto al Panteone dei Siciliani Illustri, dove sono già sepolti Camillo Finocchiaro Aprile, Francesco Crispi e Ruggero VII. In questo modo, aggiunge alla sorella del magistrato, si darà la possibilità a chiunque voglia salutare il giudice Falcone e lasciare un ricordo di farlo in un luogo più consono. Saranno sistemati dei maxischermi anche fuori San Domenico. La cerimonia potrà essere seguita da chiunque voglia partecipare, palermitani e no. La partecipazione sarà aperta a tutti. Comunica. Il giudice 202 in atto sul Palermo 98. Non si inappoggio anche alla rete. Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. Controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Chicovo. Un amore nuovo. Beppe Iachini può contare su un nuovo difensore. Danilo Ortiz è sbarcato in Sicilia. Il difensore paraguaiano è atterrato ieri alle 10.10 circa da Roma a Fiumicino all'aeroporto Falcone-Porselino di Palermo. In attesa che venga completato ufficialmente l'iter relativo al suo trasferimento. Dopo Iaialo quindi a Ortiz è il secondo rinforzo di questo mercato di riparazione. Ovviamente il difensore arrivato dal Serro Porteno, paraguaiano, sarà a disposizione per la gara esterna contro l'Inter e non per quella di domenica contro il Verona. Per un difensore che arriva un altro che potrebbe andare via, ossia Milanovic, ormai verso il Trapani. C'è l'accordo tra le parti, manca solo lo chiede il presidente Zamparini. E' lui che deve decidere, ha dichiarato Martina, agente di Milanovic. Cessione complicata? Non lo so, non so nulla della situazione. Tutto in stand-by invece l'affare Feddal Genoa se ne parlerà probabilmente. L'ultimo giorno di mercato, lunedì. E' previsto intanto per oggi un incontro per Bruno Uvini. Al momento è una possibilità che i Rosanero stanno valutando per sostituire Mugnoz, sembra in orbita Milan. Si pensa a un prestito con diritto di riscatto, ma c'è da battere la forte concorrenza dello Sporting Lisbona, pronta a prendere il giocatore con la medesima formula. Situazione particolare anche quella di Barreto. Il centrocampista non ha rinnovato il contratto ed è finito nel mirino della Sampdoria che ha offerto al centrocampista un contratto quadriennale. Intanto prosegue la preparazione in vista della gara di domani al Barbera contro il Verona. L'unico indisponibile sarà Enzo Malesca. Poi tutti confermati. Sergio Mattarella è una persona di assoluta lealtà e correttezza, competenza e imparzialità, lo afferma Giorgio Napolitano conversando con i giornalisti alla Camera prima del voto. Sono delle caratteristiche importantissime per un capo dello Stato, ha aggiunto il presidente emerito. No della Germania, nuove riduzioni del debito della Grecia. Lo ha ribadito la cancelliera Merkel, intervistata da un quotidiano tedesco, ieri duro monito di Atene all'Eurogruppo. Non rispetteremo gli impegni presi dal precedente governo. Venti condanni a Bologna nei confronti di un'organizzazione dedita alla manomissione delle macchinette slot in barre circoli. Le pene più alte dai 5 ai 7 anni di carcere sono state inflitte a Maurizio e Gianluca Maselli, padre e figlio, ritenuti promotori della frode all'erario. E' salito ad almeno 55 morti il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri ad una moschea sciita nel sud del Pakistan durante la preghiera del venerdì. L'attacco terroristico è stato rivendicato da un gruppo sunnita. Stretta antiterrorismo in Canada, annunciata ieri sera una nuova legge che permetterà di tenere in detenzione fino a sette giorni sospettati e anche senza accusa. Sarà inoltre reato minacciare pubblicamente online un attacco terroristico anche senza la presenza di fatti specifici. Mezza Italia continua ad essere flagellata dal maltempo. Neve al nord, anche se dopo le nevicate di ieri la situazione sta migliorando. In biancate anche Toscana e Umbria. Fino a lunedì sarà il centro-sud il più penalizzato da piogge ed acquazzoni, specie sui versanti tirrenici. Nobria. Corso dubbli. 3 4 5 8 9 10 12 13 14